Stasera ragazzi c'è qualcosa di più importante della partita, del risultato, dopo ne parleremo. Stasera bisogna salutare un grande uomo. Un uomo che ha dato tutto al Milan. Un uomo che è arrivato in punta di piedi e ha conquistato il pubblico rossonero, il cuore dei tifosi rossoneri. E' un calciatore che è entrato nella storia del Milan di diritto e non ne uscirà tanto facilmente. Immagino tra tanti anni si continuerà a parlare di lui perché ha dato tutto in campo per il Milan e noi non possiamo fare altro che salutarlo con un grandissimo applauso. Spammatemi un cuore in chat, tutti quanti sotto nei commenti, voglio un cuoricino perché se lo merita, perché non solo come calciatore ha dato tutto ma ha dato tutto anche come uomo e noi lo ricorderemo per sempre. Un grosso applauso a Mirante che ci lascia così. Grazie, grazie Mirante per tutto quello che hai fatto per noi. Scene commoventi a San Siro per l'addio di Mirante. Alla fine ragazzi il risultato non conta. Il 3-3 della Salernitana era quasi scontato. Una volta entrato Simi non potevi fermare l'ondata granata della Salernitana e quindi è giusto anche che si concluda così questo fantastico campionato con un bel 3-3 con la Salernitana. Ma oggi ragazzi non importa perché oggi è il giorno dei saluti. Una volta salutato il grande Mirante che è quello che merita più rispetto di tutti, possiamo anche salutare gli altri. E salutiamo Kier che è entrato in campo da infortunato probabilmente, ma comunque Kier li voglio bene. Lo ricordiamo tutti quanti il video di quando arrivò. Non ero felice, non ero contento. E poi alla fine se ne va e mi ha strappato anche una lacrimuccia. Anche vedendo quello scatto finale era meglio non vederlo. L'avremmo potuto salutare dalla panchina, ma va bene così. Kier è stato un grande vichingo, un grande guerriero e lo salutiamo. Poi ovviamente ragazzi Girum ha fatto commuovere. Cioè ragazzi io gli viero, li voglio bene. Mi dispiacerà tantissimo non vederlo in campo, anche se ho sempre detto è giusto così perché ormai era arrivato al suo capolinea. Però, a parte gli scherzi iniziali, davvero un grosso applauso anche a Girum. Di Pioli ne ho parlato in un video dedicato tutto a lui, quindi ve lo potete andare a guardare. Devo essere sincero, nonostante tutto comunque c'è stata qualche scenetta che un po' mi ha commosso stasera. Certo, non vedevo l'ora che finisse questo campionato, non vedevo l'ora che molte persone andassero via dalla mia squadra perché non le posso più vedere in campo, perché sono veramente una roba inguardabile. E anche stasera abbiamo dimostrato comunque con la testa, eravamo lì con i saluti, non ci stavamo più. Sembrava quasi potesse finire in goleata dopo la paperata del portiere della Salernitana che ha lasciato la palla al Leao, che non gli sembrava manco vero segnare. Sembrava tutto in discesa, 2-0, Girum, Festa, Contca, e poi invece niente. Entrato sì, mi ha arrovinato la festa e la Salernitana ci ha pregiato. Però, ripeto, non è importante oggi il risultato, chi se ne frega. Certo, sarebbe stato bello finire con una vittoria. Dopo mi guarderò i saluti che hanno fatto a Giroud, a Kier e a Pioli. Finisce finalmente questa stagione. Onestamente, sono completamente d'accordo con lo striscione che ha messo la curva. Una stagione senza trofei, come si fa a chiamare stagione positiva? Cioè, devi avere veramente una mentalità mediocre. Io ho capito che abbiamo vissuto degli anni veramente mediocri, ma non è che se abbiamo vissuto degli anni mediocri dobbiamo restare mediocri. Siamo il Milan. Molti hanno vissuto degli anni mediocri. Dice, ricordiamoci da dove veniamo. Beh, io ho vissuto gli anni in cui vincevamo la Champions League, quindi ricordiamoci anche da dove viene il Milan prima degli anni mediocri. Quindi, giustissimo il discorso del se non vinci nulla, come fai a definire una stagione positiva? Perché c'è qualcuno che ha il coraggio di parlare di stagione positiva, cercano di snocciolarti i numeri come se fosse una stagione che il tifoso del Milan può ritenersi soddisfatto, quando invece in questa stagione, ragazzi, non c'è nulla da salvare. Credo molti giocatori si sono completamente svalutati e magari molti calciatori che un paio d'anni fa valevano una certa somma, adesso andarle a vendere non è neanche facile, non riusciresti neanche a venderle alle cifre. Quindi credo che la rosa si sia svalutata parecchio. La cosa positiva forse che possiamo prendere è stato il mercato, che era stato tanto criticato, il mercato non ha influito, mentre invece abbiamo visto che comunque i nuovi acquisti si sono inseriti bene e secondo me dobbiamo proprio ripartire da loro. Per il resto, ragazzi, c'è veramente poco da salvare. Sì, siamo arrivati secondi, parteciperemo alla Champions l'anno prossimo, è l'unica cosa che è positiva, ma non è che davvero si può essere felici per questa stagione. Quindi non è certamente il 3-3 con la Salernitana che avrebbe cambiato il mio giudizio, però ero veramente stanco quest'anno di vedere il Milan. Era arrivato a un punto in cui c'era 90% di critiche e a volte sembra quasi che la fai apposta, che vuoi criticare tutto, che non ti va bene niente, ma davvero, ragazzi, quest'anno non riesco a salvare nulla. tra gli infortuni, partite giocate veramente male, disorganizzazione tattica, disorganizzazione difensiva. Ora non lo so cosa accadrà, perché adesso è finita e io sono contento che questo campionato si sia giunto al termine perché non ce la facevo più. Sono contento di cambiare guida tecnica, però io vorrei cambiare guida tecnica facendo un salto di qualità, perché tipo l'altra volta un ragazzo mi ha scritto è te che non volevi più oli e adesso ti becchi il nuovo allenatore, no? Non voglio neanche nominarlo stasera. Però non è così, perché se io voglio cambiare più oli, che penso che ormai sia arrivato alla fine del suo ciclo, io vorrei un allenatore che mi faccia fare il salto di qualità, voglio essere ambizioso, visto che ci sono allenatori che sono disponibili, è questo il problema. Poi avremo tanto tempo per parlare del nuovo allenatore, però è questo che vi voglio dire, ragazzi. Non è il problema del nome in sé dell'allenatore, ma il problema è il messaggio che manda questa società e non se ne è fregata niente. E oggi probabilmente il saluto finale era giusto. Cantare tutto il secondo tempo non l'ho trovato necessario. Secondo me la protesta doveva essere molto più specifica, molti più cartelloni, in dieci minuti doveva uscire un cartellone con qualcosa di scritto, perché questa società non sta ascoltando nessuno da quello che sembra. Io spero che ci sia qualcuno che si svegli e capisca che quello che stanno facendo non è giusto, però secondo me la protesta è stata troppo blanda, specialmente stasera. A fine partita è giustissimo organizzare il saluto per quelli che vanno via, sono d'accordissimo, però onestamente far passare staserata come una festa, come una roba, non ci vedo nulla, dobbiamo proteggere il nostro futuro. Ok, bellissimo il passato, tutto quello che... Applausi a tutti quanti, fine partita ci sta, però onestamente, ragazzi, qua bisognava contestare seriamente perché adesso non ci saranno più, adesso ci sarà il comunicato e dopo che fanno il comunicato che protesti, che cambia? Non cambia più niente, dobbiamo salvaguardare la prossima stagione adesso, quindi, buh, mi aspettavo una protesta un po' più vigorosa, mentre invece uno che accende la televisione e si guarda la partita sembra come se il mio avesse dentro lo scudetto l'ultima giornata, ci salutiamo, tutti belli, felici, abbracciati, non lo so ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, date un voto magari alla carriera di Pioli nel Milan, in tantissimi me l'avete chiesto, buh, ero indeciso tra il 6 e mezzo, 7, diciamo l'ultima stagione ha abbassato tantissimo la media, quindi andrei un po' più sul 6 e mezzo, fatemi sapere se siete arrivati fino alla fine del video, che voto dareste all'avventura di Pioli, che comunque se ne va via con uno scudetto e se ne va via con l'affetto dei tifosi del Milan perché comunque ho visto che è stato applaudito praticamente da tutto lo stadio, sempre forza Milan, bella, meno male, il suo campionato è finito. Grazie a tutti.